Il cantiere delle ragioni, poi il nostro coordinatore nazionale Stefano Orlando approfondirà nella fase subito dopo il documentario meglio, ma perché cantiere e perché ragioni? Cantiere perché riteniamo che si debba ricominciare a costruire. Vedete che nel documentario di Ernesto Calli della Loggia inizia proprio con la ricostruzione e forse bisogna ricominciare a costruire. Ragioni non perché vogliamo avere ragione, ma semplicemente perché vogliamo ragionare, che in questi ultimi tempi mi sembra che sia un esercizio sempre meno diffuso. Intanto comincio con i ringraziamenti, quindi un ringraziamento ad Ernesto Calli della Loggia, Lucia Annunziata e Antonio Polito, che insieme a Stefano Orlando, che modererà la loro discussione sul documentario, hanno accettato oggi di essere presenti. Contemporaneamente devo ringraziare la produzione di Madeleine, che con Rai Cinema e Istituto Luce, che ha messo a disposizione dei materiali veramente originali e diversi da quelli visti e rivisti tante volte, e ha contribuito a dare un grande interesse a questo documentario e con il regista Manfredi Lucibello, che è anche lo sparring partner di lusso di Ernesto Calli della Loggia nei documentari. essendo lui di una generazione molto più recente, diciamo così, di noi. Il documentario che tra poco vedremo è una ricostruzione della storia italiana, che parte dal primo dopoguerra e arriva fino ai giorni nostri. C'è un grande sentimento dentro il documentario che è quello della solidarietà fra le persone, della solidarietà che porta alla ricostruzione, della solidarietà che spinge tutti a impegnarsi per far ripartire il Paese. Forse è una solidarietà che oggi c'è molto meno, è un Paese, forse un Occidente, molto più spezzettato. Un Paese, come dice Ernesto Calli della Loggia, di analfabeti, in larga parte. Il primo impegno è quello dello studio, della scuola, del tornare a imparare a leggere e a scrivere. Sono delle immagini molto belle da questo punto di vista. Riparte il Made in Italy. C'è una rivoluzione sessuale. La donna cambia un rapporto all'interno della società. Io appartengo a una generazione leggermente, ma molto leggermente, più giovane di quella di Ernesto Calli della Loggia. Io sono nato nel 1952 e quindi erano già chiusi una serie di cose. Però devo dire che molte immagini che ho visto mi hanno toccato profondamente, fino alla commozione. e ho ritrovato un libro che la mia mamma, quasi novantenne, mi fece leggere un po' di anni fa, quando eravamo povera gente, di Cesare De Marchi, che tratteggiava un'Italia completamente diversa e che oggi forse ci siamo tutti dimenticati com'era e che invece nel ricordo sarebbe giusto capire quanti passi in avanti sono stati fatti in questi anni. Da ultimo, ma non ultimo, ringrazio chi ci sta ospitando in questa splendida sala, cioè la Banca Finnat. E chiedo all'amministratore delegato di Banca Finnat, il dottor Arturo Nettino, di fare un saluto a tutti i presenti. Grazie anche da parte mia, grazie ad Andreolo Russo che ci ha lanciato quest'idea di organizzare questa proiezione stasera qua da noi e organizzato con il collega Diego Barbato questa serata. Io unisco a tutti i ringraziamenti senza ripeterli. Il più caldo è dovuto al fatto che questa forse non era proprio la serata ideale per organizzare in centro questo evento, però avevamo scelto la data, era molto più complicato annullare tutto. Speriamo che riuscirete anche a tornare a casa, perché più si arriva verso mezzanotte più qua verrà blindato il centro. Non arriveremo fino a mezzanotte. Il documentario, il dottor Larusso mi ha detto che durerà circa 50 minuti, non ho avuto ancora la fortuna di vederlo e lo vedrò stasera per la prima volta insieme a voi. È un po' tipico per noi organizzare una proiezione nei nostri uffici, perché noi organizziamo parecchi eventi in queste sale, ma sono sempre discussioni relativi al nostro mondo. Quindi si parla di finanza, di finanza immobiliare, di banche, di previsioni di mercati. Quindi con grande piacere oggi ospitiamo una cosa sicuramente molto più divertente ed interessante rispetto a quello a cui noi siamo di solito abituati. Dico solo due parole molto velocemente per non rubarvi tempo su chi siamo e dove siamo. Il nostro gruppo, Banca Finnat, è un gruppo bancario che opera sui mercati finanziari italiani da tanti anni. Noi compiamo tra brevissimo 120 anni di attività. La nostra attività nasce come agenti di cambio a fine dell'Ottocento, nel 1898. Se vogliamo definire in tre parole la nostra attività, noi siamo una banca di gestione che gestisce per i nostri clienti privati e istituzionali patrimoni mobiliari e immobiliari. In questa breve frase è riassunto tutta la nostra attività. Questo è Palazzo Altieri, molti di voi sicuramente lo conoscono. Vorrei dire anche due parole sui nostri uffici. Non è famoso per essere la sede di Banca Finnat, ma è famoso per essere la sede dell'ABI, dell'Associazione Bancaria Italiana, che ha gli uffici accanto a noi. Questo palazzo venne costruito, la costruzione iniziò nel 1633 esattamente, ad opera della famiglia Altieri, in particolare di un cardinale che si chiamava Giovanni Battista Altieri. Gli Altieri avevano le loro residenze qua intorno, che pensarono di abbattere e ricostruirci sopra un unico palazzo. Però l'edificazione dell'edificio, come è ora, venne fatta soltanto parecchi anni più tardi, nel 1670, quando Emilio Altieri, che era il fratello del cardinale, anch'esso cardinale, divenne Papa Clemente X e dal 1670 al 1674 venne costruito il palazzo in tempi velocissimi, per quei tempi, a costi altissimi, proprio per cercare la famiglia di finire l'edificio prima della morte del Papa. E così fu, perché l'edificio fu finito nel 1674, anno in cui Clemente Descipo morì. E questo affresco che voi vedete fu fatto proprio nel 1674 da Domenico Maria Canuti, che era un allievo di Guido Reni. Rappresenta l'apoteosi di Romolo, cioè la deificazione di Romolo, che viene preso in braccio da Marte e portato al cospetto di Giove e degli altri dei. Non è Domenico Maria Canuti l'unico artista dell'epoca che lavorò in questo palazzo, perché molti di voi forse sono stati nelle sale proprio adecenti, che sono quelle dell'ABI invece, che hanno un bellissimo affresco di Carlo Maratta. E quindi molti importanti artisti dell'epoca lavorarono alla costruzione, perché l'architetto era De Rossi, che era un architetto molto importante dell'epoca, e alle pitture che noi abbiamo. Tutte queste stanze sono affrescate e sono molto belle, devo dire. Per noi che viviamo ogni giorno qua dentro, questi sono i nostri uffici, è veramente molto bello poter, un grande privilegio poter lavorare qua dentro. L'ultima cosa, e poi concludo e vi volevo dire, è che noi, insieme ai tre principali proprietari del palazzo siamo noi, l'ABI e la Banco Popolare che ha il piano superiore, questi sono tutti uffici che sarebbe difficile tenere aperti, però un giorno l'anno, a ottobre, tutti noi teniamo aperti al pubblico questi uffici e per i nostri clienti organizziamo durante tutta la giornata delle visite guidate. Quindi chiunque di voi fosse interessato ci lascia la propria mail e poi a ottobre lo inviteremo perché a noi fa molto piacere. Purtroppo possiamo farlo un giorno l'anno perché sarebbe complicato essendo veramente molto densi abitati questi uffici. Questo è tutto quello che vi volevo dire, vi ringrazio ancora tutti per la presenza e a questo punto partiamo con la propria azione. assolutamente sì e quindi dobbiamo soltanto... a questo punto partiamo con la propria azione. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Isolato, senza strade, spesso senza acqua, dove i contadini stentavano la vita ogni giorno. Da qui è iniziata la strada della modernità e da qui può cominciare il nostro viaggio verso l'Italia di oggi. Ecco Ernesto, io inizierei da qua, farei tre inquadrature, mostrando appunto tutta la bellezza, l'arcacità di questo logo. E poi inizierei con il tuo discorso sul mondo della Basilica. Sì, sì, mi sembra che vada bene. L'hai letto a scuola anche che il libro... No, a mio tempo a scuola non si leggevano i libri di Carlo Levi, non si leggevano i libri moderni, diciamo così. Si leggeva al massimo i Promessi Sposi, era la cosa antica che si leggeva. No, l'ho letto quando ormai tutto questo mondo contadino era il passato, il passato del passato. Ho vissuto in un'Italia che appunto voleva mettersi alle spalle tutto questo, compreso la guerra, innanzitutto che era stata la cosa traumatica. Che tutti gli italiani, anche quelli che erano piccolini, ragazzini come me, avevano le spalle perché le sentivano raccontare ogni sera in famiglia. Sui muri di Roma c'erano ancora in certi luoghi i buchi delle sventagliate di mitra dei tedeschi durante l'occupazione. C'era ancora fortissimo il ricordo dell'occupazione tedesca a Roma che era stata una cosa molto pesante. I miei genitori sfuggirono per un pello all'aretata immediatamente successiva all'attentato di Erasella. Riuscirono a prendere un autobus e immediatamente dopo videro i tedeschi che chiudevano le strade. La guerra è stata un elemento assolutamente centrale dell'educazione sentimentale, diciamo così, della generazione che ha vissuto i primi anni della Repubblica essendo appunto in tenerissima età. Il mio primo ricordo, penso, è proprio che mi ha fatto apposta, un vero figlio della Repubblica. Io, bambinello, per mano ai miei genitori davanti a un seggio elettorale per la Costituente, al liceo ginnasio Giulio Cesare di Corso Trieste a Roma. Nonna, nonna, sei tu? Sto atterrando. Dille di stare attenta. Possibile, zio, che non ti sei ancora abituato agli elicotteri. Appartenga a un'altra epoca. Ai miei tempi tutto questo non c'era. Niente frutta artificiale, né l'accumulatore sintetico. Mi ha fatto far tardi? Ha voluto guidare lei. È divertentissimo. Nonnina, è possibile che tu debba andare in giro con questi abiti antiquati di 50 anni fa? Non dar retta, cara, a queste ragazze moderne. Dove vai? Alla prima di un film odoroso. Al ritorno portami due tavolette di energia atomica o acidità allo stomaco. Va bene, caro? Un fonocondensatore con cento musiche dei nostri bei tempi. Guarda. Senti. Perché mai questo regalo? Non te ne rammenti. Hai dimenticato? Il vostro primo incontro? No. Era finita da poco la seconda guerra mondiale. Tu in quel periodo scoppavi dalla mattina alla sera e un giorno. Invece di denaro mi porto a casa un foglio di carta. Te ne ricordi ora? Non ricordo. Ah, ma invecchi. Tu mi dicesti, abbi pazienza, stringiamo la cintura di un buco e avevi ragione tu. Con tanti fogli di carta come quello si è potuto a poco a poco ricostruire l'Italia. Si è potuto ricostruire un paese distrutto con dei pezzi di carta. E abbiamo tutti, credo, pensato tra di noi com'è difficile fare sintesi identitaria di una complessità. come quella di un paese, come quella di una comunità nazionale, come quella di una storia lunga, quasi 70 anni. E' difficile, ma non impossibile, e l'intelligenza del ricercatore, insieme alla potenza anche delle immagini inedite, le immagini storiche, quando sono poco sfruttate, hanno un potere evocativo molto forte. Qua ce ne sono alcune. Io ho fatto il direttore generale dell'Istituto Luce 30 anni fa, devo dire, non ne avevo mai viste alcune, che pur erano già patrimonio, che piuttosto conoscevo. Devo anche dire che, per capire un po', per lo meno per quello che mi è parso di fare, avvicinandomi alla giornata di oggi, questo filmato, io ho anche letto il libro recente di Ernesto, il credere, tradire e vivere, di cui si parla, di cui si discute, non è in discussione oggi, ma ci sono delle intersecazioni evidenti. nella personalità dell'autore, nelle oggettività della storia, e in una certa tonalità, in un sentiment che scorre nel libro, come scorre in questo film. Provo a essere sintetico. Intanto, questa sigla del Cantiere delle Ragioni, che ha colto l'occasione di presentare questo film, è una rete di, come potremmo dire, che si sta creando un po', da Catania a Padova, di, come posso definirla, un civismo professionale ed impresa, che ritiene che non ci sia una crisi da cui uscire con quattro conti, perché sono tornati i conti, che crede che ci sia una molteplicità di crisi, da cui per uscire bisogna ritrovare lo spirito di ricostruzione, di cui parla il filmato e di cui parla anche questo libro. Una cultura della ricostruzione, come si dice abitualmente, che è di sistema. Per il momento è un dibattito, per il momento è una presa di coscienza, per il momento è un tentativo di rianimare gruppi che sono esterrefatti dalla crisi di dialogo che c'è con il sistema politico. Non è escluso che poi questa cosa, un giorno o l'altro, si faccia anche offerta politica, ma dipende dall'andamento generale di questo Paese, che in questo momento è molto interrogativo. Siccome l'unico modo di occuparsi di ricostruzione è di riprendere in mano il dibattito identitario, cioè di riacciuffare il senso delle cose nella portata in cui esse hanno un inizio e una fine, per alcune generazioni soprattutto vive, e che quindi 4-5 generazioni hanno l'interesse al dibattito identitario, dibattito che è marginale sui media, è marginale nei luoghi di cultura, è marginale perché c'è una superficialità sul dibattito identitario che non ha pari nella storia d'Italia. È evidente che ci sono città che rispondano alla questione identitaria in una maniera più a pelle. Se muore Pino Daniele, Napoli si ferma. Milano, città in cui mi occupo di questo tema, ha fatto un po' come i giapponesi, ha preso la sua storia identitaria, l'ha messa sotto te che ha detto intanto occupiamoci della modernità. No, io ci tengo alla mia storia, ma sta sotto teca. Costruire quello che Ernesto Galli della Loggia fa da tanto tempo, un profilo di ricerca sull'identità italiana, è una cosa complicata. L'ha fatto scrivendo tempo fa proprio un libro che si chiamava L'identità italiana, l'ha fatta forse anche partendo da una riflessione cruciale come è stata quella che lui ha fatto in maniera anche un po' diciamo controcorrente sull'8 settembre, dove ha riconosciuto lì un punto di svolta e di innesco di un tema di discontinuità e forse di ricerca ancora non finita sulla nuova identità italiana, l'ha fatto con tante cose e poi con questo libro. Io, per introdurre questo nostro discorso, fatto con voci così sensibili e anche così autorevoli e per cogliere anche sentimenti che abbiamo vissuto tutti qui in questo momento, faccio una sola intersecazione con questo libro. Libro in cui, verso la fine, Ernesto dice chi è lui. Dettoni una parola, dov'è il suo punto di vista? E lui dice io per generazione e formazione mi sono identificato con il problema dell'identità nazionale. Cosa vuol dire questo? Ve lo dico semplicemente. Io comincio i miei corsi in università dicendo agli studenti di dire a pelle, non con tutte le compresenze possibili, ma qual è l'identità di base in cui loro si sentono... Questo lo dici tu. Sì, lo dico io. Lo dico io. No, ma ti do il contrapunto a quello che dici tu, che uno dice l'identità nazionale pensa di essere in maggioranza. Quando fai questo ragionamento con 400 studenti, la grande maggioranza oggi in università, come tante, l'identità primaria è quella locale. E quelli che abitano le grandi città ti dicano il loro quartiere. Poi c'è una minoranza che ti dice che sceglie l'identità italiana, i sardi e i siciliani che parlano di identità regionale ma sono gli unici, nessuno dice più cittadino del mondo che noi dicevamo volentieri e il tema dell'Europa è, lo dico perché oggi è il 24 di marzo, scomparso dal radar dell'identità dei giovani. Poi se tu gli vai a dire le compresenze identitarie ti dicono ah no, certo, io sono anche europeo, io sono qui, io sono là, ma l'identità primaria non è quella nazionale. Questa generazione non ti risponde così, Ernesto Galli della Loggia dice io ho questa storia, ho questa formazione, prima di tutto ho letto Gramsci, Croce e Salvemini e quindi la sto. A un certo punto di questo, io partirei da questo titolo che è stato scelto per il documentario che è il titolo Ambiguo Il paese perduto Ambiguo forse no, qualcuno dirà forse no. non ambiguo per malizia dell'autore ma perché si presta la parola paese si presta a diverse a diverse riflessioni e la paosa perduto si presta a varie riflessioni. Il libro lo dico subito non è la storia dell'agenda di governo di questo paese è la storia della cultura degli intellettuali sostanzialmente di quelli che pensano il pensiero del popolo e la parola centrale di questa ricerca è la parola tradimento che sostituisce nel vecchio motto fascista di credere obbedire e combattere la parola obbedire e non si sa più se la parola obbedire era peggio della parola tradire però questo è il tema diciamo e vivere è certamente meglio di combattere e questo ci risolve il problema la domanda che poi mi resterà da fare alla fine della fine è in cosa credere perché la parola credere è rimasta nel titolo del libro voglio solo dire che a proposito della parola paese c'è un passaggio nel libro in cui Ernesto Galli della Loggia dice la storia politica della democrazia italiana non bisogna mai dimenticarlo è stata nella sostanza una storia di minoranze e dunque per molti aspetti una storia contro il paese più che un'espressione originariamente maggioritaria di esso il film è più che altro un film sulla società sulla gente sul popolo sul paese e sembrerebbe da questa battuta che il paese abbia tirato alla fine verso la parola che conclude questo libro è la parola deriva la parola che conclude questo film è la parola decadenza allora cos'è lo sguardo di Ernesto Galli della Loggia qui e là ma noi dobbiamo parlare di qua di questo film uno smarrimento uno spaesamento rispetto al fatto che non si riacchiappa più l'etica della ricostruzione che l'identità italiana non sa più cosa ricostruire e quella parola paese perduto che cos'è è questo paese che in fondo sembrava per tre quarti di questo film che fosse anche molto affetto molta simpatia molta generosità da parte di un paese che va bene d'accordo non avremo i sensi di colpa dei tedeschi però ci siamo rimboccati le maniche siamo usciti dal Polesine dai guai dalle guerre da tante cose abbiamo metabolizzato come dice spesso Derita la sofferenza più velocemente di tanti altri paesi e abbiamo fatto una corsa verso la modernità fino a qui Ernesto Galli della Loggia ha un certo affetto nei confronti di questa società poi necessariamente questo film e questo libro si incrociano e forse per colpe che non sono nemmeno del paese e c'è un evidente sentimento critico per la classe politica e per le classi dirigenti il paese si è orientato alla decadenza ovvero alla deriva è perduto è per la parola perduto ci ricorda il paradiso perduto di Milton che era perduto perché era era l'Eden era la storia della dama ed Eva poi Milton scrisse una meno fortunata storia del paese ritrovato che non va per la maggiore mentre il paradise loft è rimasto nell'immaginario collettivo del mondo ecco qui siamo di fronte a un paese perduto che non è ricostruibile un paese che se n'è andato o è perduto quel sentimento che nel film trova l'affetto anche umano intellettuale e civile dell'autore e che oggi non riesce più a condizionare una domanda di politica di una certa qualità c'è un paese che non ha più una domanda severa nei confronti delle proprie classi dirigenti da fare un po' di luce su questo titolo forse noi capiamo di più lo spirito che ha animato questa produzione che comunque è una bellissima provocazione perché in meno di un'ora ci permette di fare un ragionamento abbracciando tutto un percorso che i più anziani parlano della loro vita e i meno anziani parlano di cose di cui si parla sempre meno nei luoghi di studio e forse anche nelle famiglie scusa mi permetti prima di iniziare mi piacerebbe che venisse qui accanto anche il regista di questo film Manfredi Lucibello che è il coautore a tutti gli effetti di questo documentario perché appunto le cose cinematografiche sono fatte sì ci sono delle idee ma c'è anche il modo di realizzarle non c'è dubbio chi le ha realizzate è stato Manfredi insomma sono anche poi un compagno di discussioni scusa eh apprezzo molto giusto Lucia Annunziata che non presento perché sapete Lucia Annunziata allora intanto io ringrazio Ernesto per la spiccata sensibilità nei confronti dei temi del meridione si sente meglio adesso? lui dice secondo me inizia non a caso appunto con Cristo si è fermato a deboli e poi ritorna continuamente sul meridionico delle immagini veramente belle devo dire congratulazioni al regista che le ha cercato adesso che la cosa sia molto bella evito di dirlo ogni due parole perché sennò è inutile insomma è evidente che è una roba quello che è stato fatto è un bellissimo racconto anche da un punto di vista proprio di sintesi e anche di immagini vorrei entrare in alcuni snodi dicevo secondo me è molto bello e non me l'aspettavo perché quello è veramente se c'è una cosa che è scomparso dal paese è la sensibilità nei confronti del sud lo si ama in maniera partigiana lo si odia in maniera partigiana e lui entra ma tutto sommato non è più parte del paese come dice lui molto bene a un certo punto dice è scomparso il mezzogiorno è rimasto solo il sud e il sud è un posto è una parte del paese c'è il centro c'è il sud c'è il nord ma il mezzogiorno era qualcosa di cui l'intero paese doveva occuparsi e secondo me questa è una frase secondo me molto intelligente anche perché entra dentro secondo me la questione anche del dinamismo che ha avuto quel paese grazie al sud dinamismo politico dinamismo industriale eccetera voglio fare un'altra notazione l'uomo galli della loggia entra nel pallone quando si comincia a parlare di rivoluzione sessuale gli ho detto insomma ti vergogni tanto dicevo prima io e lui dice giustamente come dire è una reticenza legato anche dei cambiamenti nel rapporto tra uomo e donna però io l'ho trovata con la 500 sì sì è una battuta ho trovato molto carino che lui che diciamo sempre è molto fluido nei suoi giudizi per non dire spregiudicato tagliate nei suoi giudizi quando si arriva alla questione della rivoluzione sessuale delle donne va molto cauto anche per questo ti ringrazio anche per questo ti ringrazio insomma il punto bello punto decisivo secondo me che ha toccato sullo sviluppo dell'Italia è l'importanza della scuola tutti ricordiamo quella scuola ed è stato tagliato molto bene l'idea che era stata quella scuola l'abitudine al servizio cioè all'ordine alla produzione al servizio una grande scuola che ha messo in piedi il paese ha rimesso in piedi il paese io su quello mi sono un po' devo dire intorno a tutte queste cose mi sono anche un po' diciamo emozionata a rivederle pensate che io sono andata ho fatto la prima elementare in anticipo a 5 anni perché all'epoca ti prendevano comunque nel 55 mio padre era un ferroviere ha fatto tutto il sud perché i ferroviere erano molto politicizzati mio padre quindi si faceva spostare perché c'era tutta la battaglia politica da fare quindi io sono nata a Sarno però stavamo a Cassano Irpino poi siamo andati a Nusco poi siamo andati in vari posti abbiamo girato tutte queste cose ricordo mio padre che usciva quando c'erano gli scioperi sull'Avellino Benevento con la pistola che era una macchia pistola a tamburo degli americani perché dall'epoca si attaccavano i sindacalisti e mi ricordo anche i comizi i comizi in piazza in cui per l'appunto le campane della chiesa questo mondo in cui i comunisti cantavano a bandiera pensate che io sono stata la mia famiglia andavo a 5 anni a una scuola di monache e mi era stata data l'ordine mi era stato l'ordine a casa del mio padre di fare l'appello di uscire di classe quando c'era la preghiera tutti i giorni immaginate cominciare a 5 anni e fare una cosa del genere effettivamente come aver fatto il servizio militare da quando avevi 5 anni non c'era verso che sfuggia dalla tua diversità la tua identità perché racconto queste storie perché secondo me la questione di quello che abbiamo fatto nel dopoguerra è veramente la radice della nostra identità cioè aver ribaltato la fortuna dell'Italia e sono d'accordo con la testa di fondo di Ernesto che oggi noi non crediamo nel ribaltare nulla non crediamo che ci sono di fronte documentario per esempio avete notato che non c'è dentro la televisione caspita la televisione è un perno della ricostruzione nazionale lui non l'ha manco vista cioè nel senso proprio che non c'è l'unica televisione che compare è quella nello sketch di C eccetera eccetera non c'è la televisione che secondo me non è una cosa di poca rilevanza così come per esempio non a caso si ferma la tua narrativa sull'orlo della più grande rivoluzione tecnologica che abbiamo avuto nel mondo e che ci sta travolgendo insomma non c'è un computer salvo quello che non funzionava per farlo vedere tra l'altro i computer quelli lì non sono fatti più per leggere i cd qualcuno ve lo deve dire insomma cioè ce l'hanno i cd ma non li leggono perché è una tecnologia aggiunta dovete mettere una UBS insomma cioè sto parlando dei cambiamenti tecnologici io credo che manchi fortissimamente all'interno di questo discorso di Ernesto e poi lo dico perché manca proprio la tecnologia manca l'evoluzione della comunicazione manca il rapporto con un elemento terzo che è il tuo computer il tuo smartphone tutto quello che voi potete immaginare così come era la televisione in termini di apprendimento prima e di consumo dopo secondo me non è un caso e non è un caso perché Ernesto è un vero intellettuale del novecento in qualche modo cioè è una persona che ha sempre riflettuto sui grandi temi del novecento quello che una volta avremmo considerato molto i temi strutturali diciamo i temi forti dell'identità anche in termini di politica società collettività partiti nazioni insomma mentre invece ci sono poi peculiarmente negli ultimi anni dagli anni ottanta in poi noi siamo diventati parte di questo grande movimento della globalizzazione di cui adesso cominciamo a sentire il peso non solo noi ora perché faccio questa osservazione e chiudo perché ci porterebbe lontano ma credo che tu Ernesto abbia capito e tutti qua abbia capito perché porsi la domanda di che paese abbiamo di fronte a noi oggi guardando ai meriti che abbiamo avuto nel passato secondo me non serve più a niente niente ve lo dico così cioè nel senso che il nostro passato è la nostra cassaforte è quello diciamo il luogo che ancora dove ancora troviamo qualcosa che abbevera la nostra anima ma non possiamo assolutamente immaginare come si fa oggi molto spesso di riproporre una continuità con quello che abbiamo fatto con quei valori con quelle cose bellissime perché sono andate la vera sfida oggi non è tentare di dire ritroviamo lo stesso spirito e guardate questo è un tema molto importante proprio in queste ore perché la gente che verrà domani è già arrivata stasera ai capi di stato per i 60 anni dell'Europa ragionerà in termini di la rottura che il modello europeo che è stato in termini trasnazionale politica la soluzione che abbiamo adottato a un certo punto di questi anni e di questi decenni è fallita essa stessa fino a che punto riconoscere questo cambiamento e questo fallimento il problema vero e lo lascio lì oggi purtroppo è che alcune cose non torneranno mai più basta è come una macchina da scrivere è finita punto è inutile pensarci il lavoro come giustamente dicevi tu il lavoro è scomparso questa è una cosa che a me ha fatto molto male perché io mi ricordo Antonio e io stavamo nella stessa città ti ricordi Antonio a Napoli negli anni 70 quando aprì Pomigliano d'Arco i napoletani impazzirono di contentezza perché finalmente c'era la fabbrica finalmente potevano uscire alle 8 del mattino alle 2 del pomeriggio c'era diciamo questo grande elemento di modernità alla fabbrica non c'è più non c'è più perché è perché il lavoro è cambiato completamente per cui io penso che c'è una cosa che amerei vedere nel prossimo documentario tra lucibelli e regali dell'alloggi del problema della rupture quella che chiamano la distruzione che è la cesura che le tecnologie che è un linguaggio che viene usato molto nel mondo della nuova tecnologia che è un disastro è un problema è una cosa oltre cui noi in questo momento non riusciamo a vedere ecco io personalmente come mi regolo su questo io tento di navigare giorno per giorno nel cambiamento e di non voltarmi indietro io invece ho un marito che come gali della loggia pensa sempre a tutti ero americano pensa sempre a tutti e io gli dico sempre per favore per favore non guardare indietro cerchiamo di guardare avanti è l'unico vero sistema non sappiamo che cosa c'è ma non possiamo abbeverarci il passato non ci dà in questo momento una rotta e questo è il vero dramma che noi viviamo tutto il mondo lo vive non abbiamo di fronte a noi le rotte che ci sono state offerte dal passato gli voglio dire solo una cosa quando ci fu la rivoluzione francese si creò la zona dei parrucconi io penso sempre alla cesura che c'è davanti a noi in questi termini alcuni degli aristocratici decisero che non volevano vedere il nuovo mondo la rivoluzione si chiusero nei loro castelli ripresero i loro riti e appunto diventarono dei parrucconi nel senso che le loro parrucche diventavano sempre più grandi più elaborati segno del fatto che erano persone anche fuori dal mondo insomma di fronte a una rivoluzione come questa in cui noi stiamo devi decidere se devi diventare un parruccone o se devi decidere di starci dentro come un sanculotto io personalmente ma forse lui non sarà d'accordo con me penso continuamente ancora di morire come un sanculotto sanque oro vabbè un pro no un girondino già è una cosa sto parlando proprio di un sanculotto cioè un proletario senza speranze che come dire non sa manco che fa che pagherà perché sarà tra quelli che per prima gli verrà staccato la testa però se io devo immaginare a come uno deve scegliere io mi immagino quella cesura lì quella drammatica prima grande cesura che creò l'epoca moderna grazie Ernesto è un terreno minato quello in documentario di 50 minuti dire cosa non c'è perché cosa non c'è a un editorialista del Corriere della Sera sono obbligato di dire non c'è forse troppo a poca a nord c'è poca classe dirigente professionisti tecnologia c'è poca a Milano nel senso che forse qualche modo da chi appare anche un paese però è vero che qui la profezia di Ruffolo sul paese allungato che si sta per spezzare qua è detta ma è detta con questo sguardo dolente al sud Antonio Pulito beh intanzitutto io vorrevo rivolgere un pensiero grato ai 60.000 elettori che rifiutando il loro voto alla lista referendum hanno conservato alla patria uno storico di grande valore un polemista un giornalista e anche diciamo oggi lo scopriamo anche come un autore televisivo di cinema di questa qualità è forse risparmiato all'Italia un politico diciamo così mediocre ecco quindi grazie l'elettorato è saggio diciamo sceglie sempre per il meglio e poi volevo dire una cosa sulla tua introduzione perché anch'io trovo ambiguo il termine paese perduto e anzi ero venuto a dire la verità con un'altra idea e mi spiego cioè il paese perduto spesso fa riferimento a una lamentazione sul passato che non c'è più no? bisogna dire che nella sua attività pubblicistica gallina di loggia è anche molto duro sferzante talvolta addirittura ingeneroso nei confronti dell'oggi diciamo dell'Italia come oggi e quindi mi aspettavo ecco questo tipo che paese perduto voleste dire quello invece in realtà il film se posso dirlo trasuda affetto per l'Italia e quindi questa connotazione diciamo così un po' polemica si è molto stemperato infatti quando è finito gli ho detto a Ernesto guarda non so se è merito tuo ma è molto bello ho pensato subito a Lucibello perché evidentemente il mezzo il mezzo delle immagini ha fatto affiorare in tutta questa anche commozione del ricordo della narrazione della sua infanzia ha fatto affiorare un elemento di forte amore insomma di affetto per l'Italia per il suo paese per il nostro paese e quindi in realtà il film è su quello che l'Italia ha perduto più che sul paese che abbiamo perduto su quello che l'Italia ha perduto sono tante le cose che l'Italia ha perduto sono tutte ben descritte nel film ha perduto la Fiat per esempio c'è la Fiat dall'inizio alla fine compare dappertutto non c'è più la Fiat non si chiamano più così non è più italiana probabilmente ha perduto l'Italia avete visto quel filmato l'Italia la compagnia di bandiera ha perduto le Olimpiadi adesso non si fanno più le Olimpiadi in Italia una volta perché non ci sono i soldi una volta perché non c'è fiducia diciamo così nella capacità di evitare la corruzione non è una cosa da poco che non si facciano più le Olimpiadi in un paese che un paese non si senta più in grado di ambire diciamo di gareggiare per fare le Olimpiadi ha perduto il lavoro il lavoro di massa il lavoro operaio e ha perduto il mezzogiorno qui devo concordare con Lucia è una frase che resterà la userò mille volte nella polemica diciamo sul mezzogiorno sparito il suo posto è rimasto solo il sud perfino nel mezzogiorno non si parla più di mezzogiorno anzi i vari territori si contendono orgogliosamente il fatto di non essere parte dello stesso mezzogiorno di quegli altri il che veramente è dal senso della diciamo della distruzione culturale della questione meridionale cioè di uno delle questioni cardine della costruzione nazionale ed è la storia di una modernizzazione di una grande modernizzazione più o meno corrispondente ai gloriosi 30 cioè agli anni che in tutta Europa in Italia in particolar modo perché noi partiamo un po' più indietro corrispondono a un periodo 50 anni dai 50 dal 50 all'80 anni che corrispondono a condizioni eccezionali di crescita alta spesa pubblica bassa disoccupazione e forte incremento del prodotto interno lordo perché l'Europa godeva di una condizione internazionale che oggi non ha più cioè di primazia insomma soprattutto sulla trasformazione dei prodotti e se posso dire ecco faccio anche qui e lì qualche critica non tanto su quello che manca ma sul tema che non si avverte ecco in questi anni della modernizzazione forse si sono determinate anche le condizioni che hanno poi prodotto l'Italia come diciamo come ha cominciato poi la sua crisi alla fine degli anni 70 cioè nel film è tutto un po' diciamo così una visione un po' irenica ottimistica di questi anni che sono stati anche molto duri dal punto di vista sociale l'emigrazione lo spaisamento di grandi masse dal punto di vista del rapporto con le grandi tradizioni cioè il tema diciamo proprio della tradizione del passaggio della trasmissione da generazione a un'altra del sapere dei valori e così via anche grazie alla scuola di massa diciamo il rapporto con la chiesa quello è ben descritto per esempio nella vicenda sul referendum cioè ci sono state una serie di consunzioni in quegli anni di grande crescita di grande modernizzazione quelli che tutti oggi diciamo sono stati gli anni migliori gli anni più belli anche perché più o meno generazionalmente erano anche per ognuno di loro diciamo gli anni più belli e che però contenevano dentro di sé diciamo la costruzione di uno sviluppo che aveva i suoi difetti non ultimo dei quali quello del paese lungo cioè dell'apporto tra noi e del sud e poi un'altra osservazione e poi una cosa finale da dire l'altro tema che sarebbe interessante discutere è diciamo mi pare che Ernesto Galli della loggia identifichi la frattura cioè dov'è il momento in cui noi scolliniamo cioè in cui una storia di modernizzazione sviluppo e crescita poi diventa piano piano una storia di stasi e poi di decadenza ecco su questo sarebbe interessante discutere perché mi pare che lui lo attribuisca soprattutto alla fine degli anni 80 cioè all'ammutare delle condizioni internazionali soprattutto alla fine della divisione del mondo in due blocchi eccetera eccetera mentre invece io penso che diciamo la ragione più profonda di questa nostra crisi affondi le radici nel più lungo 68 della storia europea noi abbiamo avuto il più lungo 68 della storia europea un 68 che è durato più di 10 anni e che negli anni 70 ha creato le condizioni che invertivano quelle dei 30 gloriosi cioè che appunto creavano l'inflazione diciamo l'alto debito la costruzione di un debito pubblico elevato che adesso non ci mette neanche in condizioni di fare con i soldi dell'erario la messa in sicurezza di vaste zone del paese che crollano al primo terremoto o alla prima nevicata abbondante cioè veramente un fenomeno di arretramento anche civile del paese rispetto a quegli anni in cui si costruiva l'autostrada con tanta velocità ma quello è il momento quello è il brodo di cultura anche culturale anche politico in cui si inceppa il meccanismo della crescita e si creano le condizioni di una stasi e di una decadenza infine un'ultima cosa un'ultima osservazione mi è venuta in testa cioè poi vedendo il film mi sono detto ma quali sono poi le cose che di cui abbiamo ancora bisogno le cose che ci renderebbero in grado di diciamo di ricominciare una storia di successo perché è sacrosanta la conclusione di Galli della Loggia attenzione perché diciamo l'Italia sta qui da 2500 anni non viviamo diciamo nel presente senza avere la capacità di guardarci un po' all'indietro e quindi anche avanti quindi c'è da chiedersi che cosa che cosa ci serve che cosa è fondamentale beh io penso che tre cose vengono fuori dalla ricostruzione del film e che vanno molto enfatizzate anche nella nella polemica politica e culturale di oggi il primo è che noi dobbiamo stare in un sistema internazionale cioè l'Italia da sola non ce la fa non ce la fa cioè la grande svolta diciamo del 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 dopoguerra è giustamente il piano Marshall e poi manco a dirlo poi la cieca e poi nel 57 60 anni fa la comunità europea e diciamo è in quell'ambito occidentale ed europeo che noi abbiamo prosperato questo per me è una cosa fondamentale cioè non credo che l'Italia abbia un futuro è un destino al di fuori di un sistema di amicizie internazionali di cooperazione di collaborazione che esalti al massimo lo dico perché oggi invece pare il contrario pare che l'Italia sia stata distrutta nel corso della sua storia dal fatto di essere così aperta all'Europa e al resto d'Europa la seconda cosa la politica democratica è molto bella tutta la diciamo così quella parte che l'autore dedica al tema del rifiorire della politica democratica perché quello è un elemento fondamentale anche per lo stato d'animo di un paese anche per come dire il sentimento di un paese ed è una cosa che stiamo colpevolmente stiamo perdendo colpevolmente nel senso che non protestiamo abbastanza quando questa si usura o viene addirittura scippata e il terzo elemento è l'elemento della solidarietà questa è un'altra cosa le grandi reti di solidarietà le grandi reti diciamo così di italiani che si mettono insieme intorno a una necessità un bisogno come nel caso del Polesine e quindi anche diciamo i grandi convincimenti culturali ideali che motivano la solidarietà verso gli altri in una comunità il senso della comunità questa è la terza cosa di cui secondo me non possiamo fare a meno comunque complimenti perché è veramente un bellissimo lavoro grazie non so siccome abbiamo diciamo interlocutori che sono abituati ai tempi televisivi sono stati velocissimi non è frequente sono stati rapidissimi io prima di sentire il regista che è opportuno sentire e alla fine per sentire l'autore io chiederei ancora un breve un breve contributo da Lucia Annunziata e da Antonio Pulito che in questa prima parte hanno prevalentemente raccontato la loro lettura di un film che guarda al paese cioè alla gente cioè alla società al noi che questo documentario esprime poi noi sappiamo che Ernesto Galli della Loggia è attento da sempre ad analizzare le classi dirigenti e la capacità di orientare gli indirizzi di una società e di un paese la responsabilità della politica è un oggetto permanente di ricerca in questo film mentre questo è un tema ricorrente nel libro nel film è un tema di quinta c'è questo riferimento agli anni ottanta c'è questa proposta enigmatica sugli anni ottanta che un intellettuale così poco propagandistico non dice che sono anni dice che sono anni problematici in cui c'è di transizione che raccolgono un paese lo cercano di modernizzare e si trovano invischiati nella siccome è l'anno questo è l'anno in cui noi abbiamo discusso sul centenario di Moro sul sul caso degli anni sessanta sul riformismo frenato cioè gli anni sessanta e gli anni ottanta vengono spesso considerati a paragone di un tentativo di costruire riforme che facciano avanzare il paese con visione e forze che da tutte le parti ne impediscano la compiuta realizzazione che è un po' quello che è successo negli anni sessanta e negli anni ottanta però queste cose avvengono con precisa responsabilità non è che avvengano per colpa del destino dopodiché inimmaginabile la fine degli anni ottanta producono un'evaporazione completa di esperienza classe dirigente strutture visione della politica eccetera e ci consegnano una seconda repubblica non ancora completata dentro questo film come va letto il punto di vista sulle responsabilità della politica e delle classi dirigenti anche quelle imprenditoriali che mi pare che nella perdita di ruolo non c'è semplicemente anche qui evaporazione forse errori sono stati fatti anche dagli imprenditori erano ernezzo si giustamente io ho apprezzato ho deciso di non fare la tiriteria sulle classi politiche perché quello ormai non so voi ma mi escono dalle orecchie dal naso forse per il lavoro che faccio ma soprattutto perché apprezzo questa roba perché ormai è un modo semplicistico di interpretare la questione della decadenza del paese ripeto ripeto non lo dico la questione della globalizzazione che giustamente è il problema che parte dalla caduta del muro di Perlino o perlomeno si è il vero problema del cambiamento delle classi dirigenti la classi dirigenti italiana è forse più o meno corrotta o irresponsabile perché adesso non si sa più neanche che cos'è la corruzione no? tutto è corruzione ma c'è un problema di responsabilità ma voi vorreste stare in Francia? pensate che vada molto meglio in America e non parlo di Trump parlo delle responsabilità del partito democratico insomma quindi è che cos'è? è una decadenza legata alla fine di una funzione di una classe politica o è una decadenza nata come la vedo io dalla fine dello stato nazione degli stati nazioni dei punti su cui una classe politica poteva governare poteva dire delle cose su cui si formava una cultura e anche un controllo è una compartecipazione secondo me se noi non vediamo questo rapporto tra fine dei confini e fine come dire della sovranità nazionale delle classi politiche non capiamo neanche perché il certi fenomeni come il populismo sia pur nel loro natura diversa sono così diciamo trasversali quindi io ho apprezzato che lui non si sia buttato potendolo lui fare essendo il lavoro che lui fa sempre è su una spiegazione che butti sempre su questo dice però una cosa che secondo me è importante sì ho visto anche io una cosa un po' omissiva sugli anni 80 devo dire però ho amato molto quello che invece ha detto sul pc che secondo me è una cosa che non si dice tanto cioè il pc in realtà comincia a crollare alla fine degli anni 70 non dopo negli anni 80 o negli anni 90 la fine del pc questa è una mia piccola battaglia fatemelo fare ho scritto anche un libro secondo me il pc muore nel 78 è assurdo quando muore moro eccetera eccetera ma la verità è che quando nel 76 il pc non riesce a consolidare la sua andata al governo e non riesce contemporaneamente a controllare il movimento che trova un picco in quel momento e si ritrova tra lama e moro questo doppio parricidio come lo chiamo io su queste robe il pc perde una grandissima partita che è quello di essere l'elemento che può portare nelle istituzioni il malessere sociale e l'evoluzione sociale non soltanto il malessere sociale non è che la società è solo malessere la società spinge anche per cose positive essendo io una delle persone che ha sfilato tra il milione di studenti mezzo milione in Italia e varie centinaia di milioni che sfilava sotto le botteghe oscure dicendo che facevano schifo quella roba lì che invece è stata la vera rupture politica perché da lì poi vennero le bericate rosse perché cioè quella spaccatura tra il movimento dei giovani enorme e la speranza di andare al governo nel 76 e il 77 se ci fate caso è completamente espunta dalla storiografia nazionale perché se no non si capirebbe che Berlinguer un po' di cose sbagliate le ha fatte e non si capirebbe che Berlinguer in fondo qualche fallimento se non almeno un paio molto forti insieme ad alcune cose positive ed erano parte uno dell'altro queste robe la sua capacità di mettersi nel mondo occidentale era secondo me l'altra faccia della sua incapacità di ritornare incapacità storica naturalmente di ritornare al ruolo tradizionale di riportare a unità tutti i movimenti sociali in una prospettiva diversa per cui io penso che lui questo l'hai detto l'hai detto in poche frasi ma per chi vuol capire si era capito insomma completiamo il passaggio dopo questo duro attacco le buonanime anch'io mi sento in dovere di dire qualcosa sul pc no no ma no capisco capisco lo spirito sì anch'io ho apprezzato molto in particolare quel giudizio che dà Galileo oggi sul pc di quando lui dice il pc ha sprecato la sua la sua forza politica questo è un fatto molto vero cioè spiega un po' l'impasse politica italiana perché in tutta la fase della modernizzazione appunto gli anni 50 80 quando fine anni 70 quando l'Italia cresce soprattutto crescono le condizioni sociali diciamo ed economiche delle masse popolari degli operai conquiste salariali consumo possibile anche per per i lavoratori cioè si mette in moto quel tipico meccanismo di crescita social democratica che ripeto appunto in tutta Europa era funzionato perché poi gli operai compravano i beni di consumo e di conseguenza sostenevano i consumi interni per cui se ne producevano di più e insomma il meccanismo tipico diciamo virtuoso della crescita e non dell'arricchimento da petrolio come giustamente si diceva a proposito della basilicata beh in quella fase il pc svolge una funzione modernizzatrice perché in qualche modo diciamo così sostiene questo cambiamento sostanzialmente facendo il sindacato diciamo degli operai facendo la parte diciamo di chi difende in Parlamento diciamo la cinghia di trasmissione la vecchia storia della cinghia di trasmissione le due cose si tenevano e insieme producevano quando alla fine degli anni 70 diciamo intanto c'è la crisi petrolifera il 73 cambia tutto nel mondo cominciano i primi bagliori diciamo di globalizzazione e poi succede la grande rivoluzione liberista liberale nel 79 80 quando vincono la Thatcher in Gran Bretagna e Reagan negli Stati Uniti e quando poi diciamo un sovrano come Cole prende il controllo della politica tedesca noi diciamo in questi paesi avviene qualcosa di radicale cioè c'è un taglionetto una cesura rispetto al modello di sviluppo precedente anche rispetto alla cultura politica noi forse non abbiamo neanche ancora riflettuto abbastanza profondamente su quello che hanno cambiato nella storia politica del mondo Margaret Thatcher e Ronald Reagan di Ronald Reagan forse qualcosa si comincia a dire perché ho visto che perfino Obama si è ispirato all'inizio del suo mandato diciamo all'eredità di Reagan oggi diciamo scevro da tutte le polemiche sugli anni Ottanta con lo sguardo retrospettivo si comincia a vedere beh noi abbiamo fronteggiato questo cambiamento così radicale nel mondo con Craxi che è stato un tentativo vogliamo dirlo anche anche ambiguo anche incerto diciamo mai portato fino alle estreme conseguenze perché poi alla fine mi ricorda qualcuno dei giorni nostri alla fine c'era sempre diciamo un compromesso da accettare perché poi si poteva perché quello che ti consentiva di rimanere di mantenere diciamo il governo anche un partito molto più piccolo e in un sistema politico proporzionale in cui per forza dovevi fare diciamo le alleanze con qualcuno quindi da questo punto di vista il nostro sistema politico non ha avuto il coraggio della rottura della frattura del cambiamento radicale che altri paesi che hanno avuto poi anni di grande sviluppo di grande e quindi a noi c'è rimasto più le bollicine molte bollicine e poco vino insomma la Milano va a bere tutte queste bollicine ti vanno nel naso però poi bevi poco anche dal punto di vista della crescita senza dimenticare che sono gli anni in cui per motivi che io non attribuisco ai governi di Craxi ma oggettivi esplode il debito pubblico raddoppia in un decennio dal 60 al 120% ripeto per motivi che sono l'ho già detto prima che affondano più nel decennio precedente quello del punto unico della scala mobile quello del grande accordo Agnelli-Lama quello della compartecipazione della come si chiamava in Parlamento la la consociazione no? il fatto che si governava un po' tutti insieme però è il dato di fatto gli anni 80 mentre gli altri paesi prendono il volo cioè mentre la Gran Bretagna che era un paese più o meno socialista dal punto di vista della proprietà pubblica delle aziende diciamo distrugge questo sistema completamente ed entra nel nuovo mondo noi invece per tenere in piedi un sistema che non abbiamo la forza politica di cambiare facciamo esplodere il debito pubblico dal 60 al 120% e da lì comincia la soma ci siamo portati sulle spalle ci portiamo tuttora una soma perché mentre gli altri paesi noi diciamo spendiamo più degli altri paesi ogni anno 35-40 miliardi degli altri paesi a noi paragonabili solo per pagare gli interessi di quel debito pubblico che è chiaro che non riusciamo a ridurre ora dal punto di vista politico questi sono gli anni 80 quindi un tentativo anche diciamo brillante certamente con una personalità molto importante come quella di Craxi ma del tutto inadatto al momento e all'epoca e condizionato da quel PC che abbiamo detto prima spreca la sua forza perché condiziona la vita politica le scelte politiche condiziona anche Craxi perché non dirlo il quale combatte col PC ma non è che lo che non è che lo doma completamente al punto tale che poi diciamo finisce come finisce cioè finisce che il PC riesce a sopravvivere allo scandalo che invece travolge che travolge Craxi e quindi condiziona ma senza partecipare alla gestione infine un'ultima cosa quella che dicevi tu prima se volete diciamo così approfondire il tema della politica e classi dirigenti nel ragionamento della loggia in effetti il libro è questo cioè veramente c'è una grande differenza tra il libro e il film perché il film è veramente diciamo guarda al paese mentre invece il libro ha i suoi gruppi dirigenti sul film ci sono dei passaggi con immagini anche curiose che segnano che i cambiamenti avvengano anche nel quadro micro sociale nella nell'esperienza quotidiana nella caduta di valori nella semplificazione nella fine dell'ideologia del pianerottolo quando il ragazzo dichiara che senza grande patina d'animo che lui toglie il manifesto di Che Guevara e mette la sua fotografia che magari è una scelta di regia più che una scelta autorale questo ci permette di ragionare su come le immagini hanno raccontato anche questa storia Lucibello no sì io posso dire mi sono anche un po' divertito con queste immagini questo questo archivio per me era proprio tornare indietro nel tempo un tempo che non avevo mai visto e quindi certi atteggiamenti mi sembravano anche in qualche modo ridicoli come quel cartello la donna in Parlamento porterà pace ecco era una cosa abbastanza buffa eppure è il 92 quindi per me l'archivio è stato andare in un'Italia perduta in quanto io non l'ho mai vista io come diceva Ernesto quando si chiacchierava il ricordo politico il primo ricordo che odio un politico è Craxi e le monetine e diceva è l'ultima una cosa simile quindi io sono vissuto in quest'Italia non ho questo non ho questo amore per questo paese in quanto non ho visto certe dinamiche che ha potuto vedere Ernesto che avete visto voi e andare a vedere quell'Italia mi ha molto colpito devo dire mi sono rinnamorato del paese tramite l'archivio perché ho visto perché noi diamo per scontato certe cose siamo qua e non sappiamo invece la fatica sì io ho sentito mio nonno partigiano ci hanno raccontato tante storie e le abbiamo viste però noi ce ne siamo dimenticati di questo per me il documentario è stato questo rivedere in una dinamica che non era la scuola non imposta magari e ho rivisto un'Italia che non conoscevo anche se è il mio paese quindi concordo anche sul discorso che si faceva che si faceva prima sul fatto che i giovani d'oggi non si sentono italiani ma hanno una visione regionale questo è vero o cittadina o di quartiere addirittura e questo è un grosso problema anche soprattutto se pensiamo noi siamo la generazione Erasmus quella che ha viaggiato quella con i i confini aperti ecco ma Lucia annunziata ma rispetto sei tu che hai evocato due volte il tema della globalizzazione da una parte questo paese che rimane legato al suo impaurito e a ciò che sai conosce perché lo vede ad occhio dall'altra parte la globalizzazione che snatura e uniforma come come si tiene vivo un dibattito oggi sul sentimento di identità nazionale con le politiche che ne hanno perso diciamo l'autorevolezza e con la domanda del cittadino che sente la parola patria come una parola consumata allora l'unico modo di riprendere il tema sull'identità delle nazioni sarebbe giusto appunto l'appuntamento europeo di riqualificazione di un progetto europeo altrimenti è difficile riprendere quel sentimento che ci commuove bisogna avere il coraggio di accettare questo conflitto tra locale e globale che per i più è incomponibile perché mi facciamo una domanda direttamente a no ma io lo facevo io scusate la piazza perché Ernesto era qua ero lì che la si chiamava Melina si chiamava per telefono allora Ernesto ne ha sentite abbastanza per raccogliere ho allontanato quando ho parlato a Manfredi perché conosco no l'ha fatto apposta chiaramente no non l'ho fatto ha detto che è stato molto difficile ah sì questa è nuova non l'avevo sentito ha presentato ha approfittato la mia assenza non è vero sono stata io dunque pochissime parole innanzitutto di ringraziamento a chi ci ospita ai proprietari di questo bellissimo luogo e anche naturalmente che non si è perduto Stefano Stefano a tutti gli amici che appunto hanno parlato che hanno letto visto il film con tanta attenzione e dedizione tutto quello che hanno detto potrebbe essere l'inizio di discorsi interminabili dirò semplicemente la mia in maniera volute alcune questioni innanzitutto il paese è perduto che cos'è che è stato perduto io credo almeno il mio punto di vista è che è stata perduta l'idea del paese per l'appunto l'idea che esista un paese un paese che in qualche modo significa una collettività un gruppo di persone tenuti insieme da qualche cosa che cosa credo che pochissimi italiani lo saprebbero saprebbero dare una risposta e credo che oggi non molti si sentono italiani non molti si sentono italiani si sentono tante altre cose buone o cattive non so però non è più un sentimento diffuso quello dell'appartenenza a una cosa che si chiama Italia che significa naturalmente conoscere un po' questa cosa cos'è conoscere la storia conoscere il passato perché altrimenti senza passato non c'è identità l'identità è data dal passato se chiunque di noi si dimentica la sua vita per un colpo in testa non sa più chi è e così avviene per i paesi ovviamente la cartina di questa drammatica perdita di identità che è legata appunto a questo legame con il passato è la condizione catastrofica della scuola la scuola è per l'appunto quella cosa che ogni generazione consegna un passato un passato del paese la storia la geografia la letteratura eccetera non è un caso che da 10-15 anni il ministero dell'istruzione è un ministero assolutamente irrilevante dato per lo più o a professori universitari no anche a uomini a professori universitari illustri oppure invece a personaggi politicamente di secondo piano come la signora Fedeli l'ultimo ministro dell'istruzione è stato forse Luigi Berlinguer dotato di qualche caratura politica i ministri dell'istruzione non contano nulla come ci sono due ministeri che in Italia non contano il ministro della giustizia che non ha nessuna possibilità di fare nulla se non fare qualche legge che poi l'ANM gli silura e il ministro dell'istruzione che appunto è una persona totalmente ormai nelle mani della burocrazia del ministro è la crisi del sistema di istruzione io credo che appunto questo sia prodotto in relazione ad un'abdicazione generale che la politica ha fatto e che mi dispiace perché forse Antonio non sarà d'accordo ha corrisposto con diciamo così l'adozione dell'europeismo come l'ideologia ufficiale delle classi dirigenti italiane adozione che è stata dovuta soltanto alla idea che noi non riuscivamo a risolvere i nostri problemi e avevamo bisogno di un vincolo esterno questa è stata la vera ragione per cui appunto siamo diventati europeisti sperando che appunto domare il debito pubblico le richieste delle corporazioni che stavano affondando l'Italia ci avrebbe pensato qualcun altro perché il nostro sistema politico non poteva riuscire a venirne a capo perché perché il sistema politico italiano aveva una cosa che era il partito comunista che appunto non poteva essere un attore di tipo social democratico non voleva essere non voleva essere un attore di tipo social democratico e quindi come e per l'appunto e si operava la politica quando è crollato l'ideologia del partito comunista perché il marxismo è andato a pezzi il partito comunista ha adottato l'europeismo massicciamente e sono diventati tutti europeisti il simbolo di tutto questo di questo diciamo così fondamentale modello trasformistico per cui appunto le stesse persone sono diventate cose completamente differenti per cui tutti si sorprendi oggi che appunto scompaiono gli illustri personaggi del partito comunista e nessuno è tutto è tutta una musica che finisce in gloria nessuno più ma è questo l'Italia ha avuto un presidente della Repubblica che era un signore comunista che ha avallato tutte le sciaguratissime scelte non gli piacevano non lo faceva malincuore masticando a mano d'accordo così però la presenza di ai vertici del paese di una persona come il presidente napoletano un ottimo presidente della Repubblica che aveva però una storia che era la storia del partito comunista e quindi questo ha impedito che il paese diciamo così potesse discutere in maniera libera e spregiudicata la classe politica perché appunto ai vertici c'era un signore che nel 56 diceva che i russi facevano benissimo a schiacciare la rivoluzione ungherese che nel 73 diceva che faceva benissimo l'unione sovietica a mettere al bando e mandare in esilio solginissimo lo faceva ma volentieri e proprio perché si sapeva che lui non lo faceva molto volentieri che lo facevano fare naturalmente secondo però questo ha impedito diciamo così un'operazione di verità unitamente al fatto appunto che il sistema politico italiano è stato il grande la grande vittima e al tempo stesso il protagonista della della crisi del paese che si è verificato negli anni 70-80 noi non siamo riusciti a diventare non siamo riusciti a gestire in maniera appropriata la la democrazia e la modernizzazione perché perché la democrazia per essere gestita doveva avere dei protagonisti che noi non avevamo cioè soprattutto un sindacato un partito di sinistra che primo potesse costituire l'alternativa effettiva di governo e secondo poi che dovendosi scontrare con i problemi di governo potesse anche diciamo così introdurre un elemento di realismo forte nel sistema politico impedendo gli sbandamenti che invece il sistema è stato costretto ad avere perché insomma la democrazia cristiana nei suoi leati erano obbligati ogni elezione a vincerla dovevano per forza vincere le elezioni questo è stato il dramma della democrazia italiana e come fai a vincere a essere sicuro che vinci le elezioni aprendo i rubinetti della spesa pubblica naturalmente poi c'era l'opposizione di sinistra che ti incalzava su quel piano perché anche lui voleva dovevi finanziare 4-5 regioni governate dal partito comunista perché sapevi che non potendo andare al governo gli dovevi almeno consentire di governare la Toscana l'Emilia l'Umbria eccetera e questo è stata questa paralisi questa anomalia questa discrezia del sistema politico che ha mandato in tilt la democrazia e la modernizzazione italiana e l'europeismo è stato l'ultimo la zatta di salvataggio a cui ci siamo aggrappati naturalmente diventando più europeisti di tutti ovviamente però appunto poi quando arriva il padrone il vincolo esterno il padrone straniero la signora Merkel tutti se la pigliano con la signora Merkel o con Schauble ma noi quello volevamo siamo diventati europeisti perché la signora Merkel ci potesse mettere in riga però poi quando ci mette in riga naturalmente non ci piace in tutto questo io concludo penso che appunto l'idea di appartenenza ad un'entità particolare con una sua storia l'idea di essere italiani che l'Italia è una cosa molto particolare diversa da tutto il resto così questa idea nella nostra cultura politica del novecento è molto legata al mezzogiorno molto legata al mezzogiorno le culture politiche dell'Italia del novecento quelle che hanno fatto l'Italia del novecento i cattolici costruzzo i comunisti con Gramsci i democratici con Salvemini queste tre persone erano tutti quanti dei meridionali e hanno posto la questione del mezzogiorno come una questione fondamentale perché lo è la profezia di Giustino Fortunato l'Italia sarà quello che sarà il mezzogiorno l'Italia sarà quello che sarà il mezzogiorno la diffusione della mafia dell'andrangheta della camorra a macchia d'olio in tutto il paese e la corruzione si sta dimostrando assolutamente vera la società civile italiana è a me pare inquinata in una maniera che ormai si avvicina quasi all'irreparabile quando tu hai i medici che ammazzano i pazienti per guadagnare quelli malati dal ginocchio quelli malati dal ginocchio ma c'è stato un altro che toglieva i polmoni io voglio sapere in quale altro paese accade che le classi professionali non le classi dirigenti le classi professionali sono così inquinate dalla avidità quando tu hai appunto le consigli di amministrazione di numerosi istituti bancari del paese che sono una massa di mi spiace dirlo in questo caso ma parliamoci fuori di dentro una massa di restofanti che prestano i soldi agli amici loro e che i procuratori della Repubblica non mandano in galera perché a livello locale siamo tutti ci vediamo tutti la sera al Rotary e questo è un paese che appunto è questo il paese è questo il paese e nessuno e naturalmente tutti fanno finta di no fanno finta di niente ma insomma tanto qui siamo tra di noi ce lo diciamo la società civile il sistema politico si dividono assolutamente alla pari siamo tutti d'accordo le responsabilità agiscono in solito e il paese è perduto cioè si perde si sta perdendo io almeno lo sento così a me amo molto il mio paese come tutti quanti noi naturalmente e penso che dovremmo fare appunto la lega degli italiani mi ringrazio e anche di aver asserciato questo mio pistolotto vorrei solo fare un ringraziamento a tutti però ci siamo dimenticati una persona Carlo Macchitella che è il produttore di questo film e credo che se stasera c'è questo film lo si deve molto a lui anche nei contenuti grazie grazie